Ogni secondo nascono migliaia di idee. Per questa mi sono ispirato alle schede Arduino, i CMS open source, le stampanti 3D e tutti quegli strumenti che stanno dando vita alla nuova rivoluzione industriale. L'ho progettata pensando alle risorse e le necessità di quelle piccole e medie organizzazioni che vogliono comunicare l'unicità delle loro idee ed il valore aggiunto dei loro prodotti. Ho deciso di dedicarla a tutti quegli studenti che non si accontenteranno di essere ingranaggi anonimi in mega agenzie o organizzazioni multinazionali perché vogliono fare la differenza. Infine, ho pensato di condividerla con tutti perché sono convinto che è grazie alle relazioni che si crea la vera innovazione e che solo dalla condivisione possa nascere una open idea. Start up your communication.